ok siccome abbiamo un bel po da uccidere ora mi occupo del distretto nord poi dopo faccio tutto il sud con i vari punti di osservazione adesso qua c'è san lorenzo vicino quindi palese che andrò lì man mano che tu liberi firenze si schiarisce questo filtro che ci hanno messo tipo sabbia c'è qualcosa di strano qui dove sono tutti fatemi vedere se in alto almeno quello non è in basso però penso sia dentro la sacristia esatto a me non ha perso vita stronzo scalare ranghi ci sto devo farti fuori ti faccio fuori sì ma questa gente con me veramente non può nulla più di 30 dei miei uomini ma guarda che è interessante boom senza eccezioni tutti la stessa fine fanno eh scuse che vuoi farmi credere anche tu forza per la libertà avanti il prossimo ma sono tutti alfieri che cazzo sono oddio mi ha colpito no adesso piango non è con quella mannaia forza e allora chi sei cerchi conferme e poi faccio così un amante ti ha rifiutato mi sbaglierò ma io ci vedo una forma di insicurezza altrimenti per me perché nascondi il tuo bambino perché lo nascondi a te stesso vedo che non parte solo delle mie parole anzi ti arrabbi di più e basta come vuoi non puoi resistere e poi ora è ancora azzurro quindi non posso far nulla prendetelo preso oh e contraattacca oh ha preso cinque colpi di fila così dal nulla avanti allora vediamo di che pasta sei e forza prendetelo ah venite a trovarmi voi perfetto ecco la avevo contraattaccato io che bella sta gueriglia aperta però così oh meno guarda che te ne rimangono sempre di meno this is the problem e però prima di uccidere te voglio uccidere loro avanti scendi o ti butto giù io è qui come sempre fa sempre la solita cosa gli atterra non è morto va bene così dov'è maestro supremo fine del tragico non scappare giù la la boom 2 su 9 ero davvero così orgulloso e crudele no Savonarola ti ha stregato davvero o sono io che ho provato il potere e ne sono rimasto avvinto vorrei essere stato più forte anche io e magari meno scemo mi rincresci ma non c'è altro modo per cui escati in pace adesso voi ve ne andate tutti a fanculo ve ne andate sapete diavolo eccolo prendetelo non lo vedo tappeti tappeti da sogno ecco il cazzo che mi chiappate qua un giovane eroe un altro salto in banco trolla la 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 cerca rincorretemi va che 2 su 9 se ne sono andati scalare ranghi l'archiviamo